Oggi è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne e la CGL è stata capofila nell'organizzazione del flash mob che è qui alle nostre spalle. Sì, per questa occasione nell'ambito delle iniziative promosse dal comune di Rovigo abbiamo ideato un breve flash mob, abbiamo pensato di ricordare con dei cartelli e una breve riassunto le storie di alcune delle donne che hanno subito purtroppo non solo violenza ma molto spesso siamo arrivati addirittura all'omicidio, alcune molto vicino a noi come sappiamo Giulia poco tempo fa qui ad Adria, proprio nel nostro territorio. Abbiamo voluto fare una breve storia, un breve escursus dando anche alla fine però degli strumenti utili ricordando che ci sono dei passi avanti nella normativa, purtroppo servono ancora fondi, c'è bisogno di fondi per i centri antiviolenza e c'è bisogno di formazione soprattutto specifica eccetera, però è importante conoscere il numero del centro di violenza e sapere che qualche strumento c'è, anche il congedo per le vittime di violenza, forse poco conosciuto ma potrebbe essere utile per le donne che purtroppo si trovano in queste situazioni. Siamo riusciti a mettere insieme le varie iniziative e ad organizzare una giornata molto articolata dove questa mattina abbiamo incontrato le scuole assieme al centro antiviolenza, Polesano e alla fabbrica dello zucchero che ha presentato loro dei video sul tema dell'amore e adesso appunto il flash mob che ha visto uniti i sindacati, le sigle sindacali e tra poco ci sarà la presentazione di un libro in sala Gran Guardia organizzato dalla SPICGL Coordinamento Donne. Avremo alle 5 il consiglio comunale che sarà in parte dedicato al tema della violenza con la testimonianza portata dal centro antiviolenza e questa sera alle 8 di nuovo qui davanti con le associazioni e le società sportive per andare tutti insieme di nuovo a vedere uno spettacolo organizzato dalla fabbrica dello zucchero al Censer, quindi con un gruppo di persone che cammineranno insieme, uomini e donne, uniti fino alla sede dove si terrà lo spettacolo teatrale. Grazie mille. Prego. Grazie mille.